Io sono dottor Grossia Lorenzo, sono graduato in chilopratica presso la Westbrook University e sono qua per il corso di Thompson con il nostro teacher Pablo. Il corso è davvero interessante, molto approfondito, poi Pablo ci dà davvero l'anima, ci dà tutto quello che può e siamo veramente tutti contenti, una bella classe, grazie Pablo.